Parallelamente al mio lavoro di direttore della fotografia, insegno questo mestiere da più di 10 anni. Farlo qui alla Deforma Film Academy dà molta soddisfazione, perché non c'è limite a quello che posso insegnare. Qui ho accesso a tutte le tecnologie più recenti. L'Alexa Mini LF, Red Weapon, Gemini, Reparto Luci, Astera e Skypanel. E più che altro qui è presente uno dei tre Bolt che ci sono in Italia. I ragazzi è importante che nel loro momento formativo si confrontino con tutto quello che c'è a disposizione sul set oggi.